Musica Amici di Talk Sicilia, ben trovati ad un'altra puntata del nostro Focus, a cui dedichiamo questa volta il tema giustizia, che come ben si sa è un tema molto caldo in questi ultimi giorni. Per parlare di giustizia abbiamo ritenuto opportuno invitare al Talk Sicilia, e ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Luca Palamara, ex magistrato, anche scrittore, soprattutto con il libro Sistema, dove ha scoperchiato una pentola bollente, dove già da un paio di anni se ne parla, e oggi più di ieri, perché quando si parla di riforma della giustizia si scatena un putiferio. Luca Palamara, grazie per l'invito, ben trovato ancora a Talk Sicilia. Ben trovati a tutti voi, sempre un piacere partecipare. Allora, Palamara, noi abbiamo una brevissima scheda di una trentina di secondi introduttiva che ci dà il là per iniziare questa nostra chiacchierata. Pregherei alla regia di mandarle in onda. Il ministro Nordio ha sottovalutato l'importanza del rito e del simbolo in politica. Come spiegare altrimenti di aver sostenuto, a pochi giorni dal trentunesimo anniversario della strage di Via D'Amelio, che il concorso esterno di associazione mafiosa sia un rito evanescente, un ossimoro, un reato da rimodulare? Era naturale che contro Nordio si scagliassero gli istradi dell'antimafia, dei parenti e delle vittime dell'opposizione e dell'associazione nazionale dei magistrati, ma a borbottì i polemiche sono arrivate persino da parte della maggioranza. Insomma, il più classico è gli autogol, un autogol che potrebbe causare, nonostante il dietrofonte di Palazzo Chigi, un effetto domino ancora tutto da scoprire. Rispetto alla riforma della giustizia, c'è a dire che Nordio punta al bersaglio grosso, la separazione delle carriere tra chi giudica e chi indaga. È un argomento talmente dirompente da aver relegato dietro le quinte temi che possono ritenersi anche centrali nella riforma targata Nordio, come la cancellazione dell'abuso d'ufficio e la stretta ai giornalisti sulle intercettazioni. Allora, Palamara, tanta carne al fuoco, però io partirei proprio dall'uscita di Nordio, al di là che sia felice o meno, non è questo il punto che a noi interessa, ma a noi interessa se questo concorso esterno in associazione mafiosa, un reato fatto a suo tempo, oltre a vent'anni fa, per esigenze particolari, non sappiamo se oggi ci siano le stesse esigenze o meno, ma visto da lei, da ex magistrato, è da rivedere questa norma o no? Allora, bisogna essere molto chiari quando si affrontano temi così delicati e permettere che il livello della lotta alla mafia non può mai essere abbassato e deve essere sempre un obiettivo centrale di qualunque maggioranza sia il governo. Anche per esperienza ovviamente vissuta non bisogna mai abbassare il livello dell'attenzione. Detto questo, al di là dell'opportunità o meno e del segnale politico che può essere dato con questo argomento, sul tema del concorso esterno, così come sul tema della trattativa, non bisogna essere ipocriti, è un tema sulla quale si è sempre discusso, soprattutto in ambito dottinario e giurisprudenziale. Su una fattispecie, quella del concorso esterno, che come ha ben detto il Ministro Nordio, comunque è un tema di dibattito tra gli studiosi. Poi mi fa piacere leggere ad esempio le parole anche di colui il quale ha avuto sempre parole critiche nei confronti del concorso esterno, come il professor Fiandaga, che oggi dice però attendiamo perché non è questo il momento. Questa è un'altra questione. Detto questo, sicuramente ha contribuito ad elevare il livello della lotta alla mafia, e dall'altro lato però ha rischiato di portare dentro i processi persone che in quel contesto non erano realmente inserite. Ed è questo, penso, che debba essere ugualmente un tema di discussione. Il processo e la lotta alla mafia impone di processare, di condannare chi è contiguo, chi è dentro la mafia. Chi in qualche modo invece, con questa fattispecie così larga, rischia di esservi attratto, può in qualche modo creare e alimentare questo tema. Però, ripeto, non bisogna dare in alcun modo il segnale di abbassare il livello della lotta alla mafia. Penso che la recente cattura di Matteo Messina Denaro, che tanto ha fatto discutere, perché una volta preso poi subito ci sono stati coloro i quali hanno detto ma l'avremmo preso comunque da un po' lo spessore di come su questo tema in realtà la strumentalizzazione sia sempre dietro l'angolo. Palamara, siamo all'anniversario della strage di Via D'Amelio dove il giudice Borcellino e la scorta hanno perso la vita e proprio in queste ore c'è un'uscita dell'ex magistrato Caselli che parla di depistaggio di Scarandino, uno dei pentiti. Ma perché ogni volta si tirano fuori a spizziche bocconi dopo decenni queste dichiarazioni? Cioè, non lo so, si ha una sensazione come un gioco tra le parti? Ci illumini? Sì, ho letto questo articolo di Caselli che è il fondo della stampa odierno. Lo spunto del concorso esterno viene preso ovviamente per attaccare e demonizzare il ministro Nordio perché evidentemente il ministro Nordio non è dello stesso colore politico di Caselli e questo dà un po' anche l'idea e lo spessore sul tema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e soprattutto dell'indipendenza della politica perché io penso che poi i discorsi su questi argomenti debbano essere fatti a prescindere da quelle che sono le opinioni politiche. Mi ha colpito però leggere che a proposito del ricordo di Paolo Portellino e dei ragazzi della scorta che domani ovviamente commeremo per la prima volta, non so se è la prima volta, però io ho letto questo, Caselli fa riferimento al depistaggio di Scarantino e io penso che su questo tema che è uno dei temi che io ho trattato nel mio ultimo libro Lobby e Loggia mi sembra quanto mai dare ascolto alla famiglia Borsellino che ancora oggi chiede di capire, di comprendere perché questo si è accaduto e chiede di comprendere anche quello che è stato il ruolo della magistratura. Ecco, io mi attenderei un gesto di coraggio da parte di Caselli e di capire anche di contribuire a far accendere i riflettori al di là di quelle che sono state le recette di sentenze processuali su come è andata all'interno della magistratura perché la magistratura fa parte della famiglia Stato all'interno della famiglia Stato c'è la magistratura ci sono le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria ci sono i politici, ma anche la magistratura non può chiamarsi fuori da un tema di assoluta riflessione per come è posto la famiglia Borsellino. Certo, perché può sembrare un controsenso nel senso che ogni anno si commemora Borsellino si parla di giustizia, però ancora la famiglia Borsellino sa giustizia, non la trova ed era un magistrato non pensa che sia un controsenso Io penso che quello che è accaduto col Borsellino Quater nel 2017 dove per la prima volta venne certificata l'inattendibilità di Scarantino sia qualcosa che sia a livello pubblico prima in ambito familiare sia assolutamente devastante e sconvolgente non capire e non comprendere cosa realmente è accaduto e chi c'era e ci fosse dietro quella vicenda Quindi in buona sostanza per citare Reim che recentemente ha fatto una dichiarazione che in estrema sintesi la sintetizzo, scusi il gioco di parole tutto ciò che non è sinistra al governo viene attaccato insomma siamo qui a ripetere Diciamo che quando tutto ciò che non è sinistra è al governo maggiormente, e poi dirò perché, si compatta quel fronte tra una certa parte dell'informazione e una certa parte della cosiddetta cultura giustizialista nel cui ambito abbiamo sia esponenti di spicco della dottrina che è una parte della magistratura che come dire, a testa bassa attacca il governo però non dimentichiamo che questo accadde anche per essere sinceri ad una maggioranza di centrosinistra nel 2008 l'allora governo Prodi si divise perché la moglie del ministro Mastella allora ministro della giustizia venne attinta da un avviso di garanzia in quel caso l'intero Parlamento applaudì unanimemente il discorso del ministro della giustizia questo per dire che il rischio che le azioni della magistratura che doverosamente deve accertare possono essere in qualche modo strumentalizzate è dietro l'angolo soprattutto, ripeto, per esperienza vissuta e diretta quando ciò che non è sinistra è al governo oggi mi sembra di rivivere un po' le situazioni che già avevamo vissuto nel periodo 2008-2011 i protagonisti sono sempre gli stessi coloro nella maggior parte dei casi anche se abbiamo delle importanti new entry i soliti organi di informazione i soliti giornalisti che utilizzano la solita intervista di questo di quel magistrato appartenendo da una determinata area giudiziaria addirittura abbiamo una nuova figura quella di giornalisti che si trasformano in giuristi richiamando convenzioni internazionali e mettendo tutti in guardia dai pericoli per la democrazia e facendo passare il ministro della giustizia uno che nella vita ha fatto il magistrato come l'ultimo degli improvvisati che non sa nemmeno di quello che parla penso che così è un po' troppo al di là delle diverse opinioni che si possono avere penso che così poi la credibilità il rischio di non essere credibili vale un po' per tutti da un lato si tende a screditare il racconto di determinate persone anche ovviamente di chi in questo momento sta parlando ma se l'andarsi è quello penso che la credibilità a quel punto come dire diventa una sorta di circoletto autoreferenziale se la suonano o se la cantano tra di loro in sostanza in estrema sintesi Meloni come Berlusconi si può dire o è forzata ma questo non lo so perché poi ogni vicenda e ogni situazione è a sé e certo ripeto pure su questo bisogna essere chiari la premessa di partenza la magistratura deve indagare deve indagare sui fatti di banca rotta sulle eventuali accuse di stupro sulle eventuali rivelazioni di segreto d'ufficio il problema è un altro il problema è utilizzare quello che sta accadendo come un'arma per colpire il nemico politico di turno sembra quasi una sorta di sostituzione all'opposizione politica è un gioco delle parti poi si dice no ma l'opposizione deve fare l'opposizione sì ma intanto tu hai la base di un'azione della magistratura per colpire o mettere in fibrillazione un determinato sistema di governo quello che un po' da 30 anni sta capitando in Italia quando la politica proprio da Tangentopoli ha fatto una sorta di passo indietro l'idea è stata che quel passo indietro e quel terreno dovesse essere coperto dall'azione dei magistrati della magistratura l'idea che una determinata parte politica avesse la scorciatoia nelle azioni della magistratura questo spesso crea quel cortocircuito di cui stiamo parlando e dal quale in qualche modo però bisogna trovare una via d'uscita sì lei indirettamente si riferiva ai casi del sottosegretario dal Mastro sottosegretario del Mastro del figlio di La Russa del figlio di La Russa certo a proposito c'è stata un'uscita abbastanza forte della figlia di Berlusconi Marina Berlusconi presidente di Fininvest che ha dichiarato che mio padre continua a essere come si perseguitato anche da morto cioè questa inchiesta senza entrare ovviamente nel merito che è stata riaperta dopo un mese dalla morte di Berlusconi sulle stragi mafiose di Firenze come in che chiave di lettura la vede Palamara sempre non entriamo nel merito assolutamente non entriamo nel merito perché al di là di quello che si legge in alcuni giornali che hanno la fortuna di avere quelle carte a disposizione tutto il resto diciamo dell'informativo e di quegli atti non lo conosciamo l'idea è che in qualche modo questa è una storia che all'interno della magistratura gira oramai da circa un trentennio è una indagine sulla quale ripetutamente sono state svolte indagini ed è un'indagine in relazione alla quale io penso sia giusto porsi delle domande e di capire poi se debba o meno esserci un limite a disposizione di chi debba indagare o se un conto sono le norme scritte quelle che si studiano i test universitari e un conto poi sia l'applicazione pratica cioè quello che è scritto sulle leggi non conta in qualche modo nulla dall'altro lato la ricerca della verità ma la ricerca della verità ovviamente deve sempre avvenire secondo i chismi e le regole del codice di procedura penale e penso quindi che l'idea di capire cosa e perché ci possa essere dietro sia una domanda quanto mai legittima una domanda da non il che voglio dire non coinvolge solo ripeto come qualcuno si è sentito leggevo anche in questo caso di reazioni del mondo dell'informazione ma noi dobbiamo informare ci mancherebbe altro ma non penso che questo possa in qualche modo mettere in discussione il giornalismo d'inchiesta per quanto mi riguarda il giornalismo d'inchiesta è un altro non è che il giornalismo d'inchiesta è quello che in qualche modo bivacca su questo su quella informativa quello è un canale privilegiato che in qualche modo altera pure il meccanismo e le regole della democrazia perché tanto per essere chiari se il segreto d'ufficio deve esserci deve valere per tutti Dottore Palamara ti faccio una domanda da non giurista da profano da semplice cittadino ma una persona defunta può essere intagata o processata mi scusi la banalità della domanda ovviamente no perché la morte del reo estingue il reato questo è quello che è scritto nel nostro codice in questo caso però le indagini non erano solo nei confronti di Berlusconi ma riguardavano dell'utile ripeto per quello che leggiamo sul giornale chiaro indirettamente si indaga pure sull'altro certo nei confronti che è morto ovviamente no certo non c'è dubbio ma quanto riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati c'è stata una grande polemica con la ministra Sant'Achie è possibile che una persona è indagata e la procura non l'informa oppure può essere che viene informata dalla stampa infatti non a caso il governo vorrebbe anche su questo rimodulare la norma che ne pensa in merito? Allora ne penso su questo che un conto è la responsabilità politica un conto è la responsabilità penale un conto è il giornalismo di richiesta come dicevo prima un conto poi è il giornalista che riceve notizie e carte riservate sono due vicende diverse siccome anche su questa vicenda c'è chi indubbiamente ha dei canali privilegiati io posso solo dire che tecnicamente per quanto ovviamente è scritto nelle norme può ben capitare che chi è indagato non sappia di essere stato iscritto nel registro degli indagati e questo può accadere anche nei casi di proroga delle indagini fino a quando l'atto di proroga non venga notificato al diretto interessato l'articolo 369 del codice di presiura penale infatti dice che quella famosa informazione di garanzia deve essere notificata quando deve essere compiuto un atto che richieda la presenza dell'indagato del suo difensore fino a quando quello non accade può ben capitare che l'indagato non ne sia a conoscenza ma invece che ne venga a conoscenza dagli organi di informazione secondo lei è una cosa normale o no? non è normale ma è una prassi italiana pure su questo bisogna essere molto chiari e molto realisti abbiamo parlato di Tangentopoli abbiamo parlato di 30 anni fa 30 anni fa c'era questo mito questa idea che Tangentopoli in qualche modo dovesse rimettere a posto una classe politica in Italia eliminare la corruzione dall'Italia ma già non dimentichiamoci che nel 1996 quella famosa informazione di garanzia notificata a chi allora era Presidente del Consiglio in qualche modo grazie ai racconti fatti da diretti interessati da ultimo quello fatto da Paolo Mieli ci fa in qualche modo nascere dei dubbi e dare una risposta alla sua domanda tante volte a saperlo prima sono i giornali che diretti interessati e questo perché? perché c'è bisogno che l'inchiesta penale venga amplificata c'è bisogno che comunque l'opinione pubblica venga in qualche modo indirizzata sulla presunta colpevolezza di chi ancora deve essere giudicato c'è bisogno di amplificare anche il ruolo e l'attività del magistrato rispetto al politico che in qualche modo viene individuato come il simbolo di qualcosa che non va per favorire evidentemente un ricambio della classe politica questo è quello che purtroppo purtroppo sottolineo è accaduto in alcune vicende giudiziarie che hanno come dire caratterizzato la vita giudiziaria del paese in Italia rispetto al quale io penso che fare un discorso critico non sia andare contro questo quel magistrato e né tantomeno mai contro la magistratura ma sia porre un problema è un problema che esiste anche all'interno della magistratura e del quale tanti magistrati tanti magistrati che non sono politicamente schierati se ne rendono conto e ne discutono Palamara lei all'inizio dei primi passi della riforma nordio era poco fiducioso che andasse fino in fondo oggi sono passati circa 6-7 mesi pensa che sta riforma non anche se vogliamo sottolineare più che una riforma sono tanti aggiustamenti senza entrare nel tecnico ma chiamiamola questa riforma nordio arriverà in porto o secondo lei farà la fine di tanti altri inizi una parola fiducioso forse non è che ho mai avuto mancato di più conosco un po' i meccanismi quindi so che poi quando si tratta di fare le riforme qualunque riforma scatta il fronte del no scatta la logica corporativa scatta la logica di dire no a qualsiasi ipotesi di riforma dall'altro lato spesso è capitata una politica che anziché andare avanti ha fatto un po' il passo indietro penso che in questa occasione da quello che capisco non ci sia una voglia di indietreggiare quindi su questo non resterà che essere spettatori fino in fondo e capire quello che accadrà la cosa più importante è ovvio che mai deve esserci una riforma punitiva nei confronti della magistratura mai deve essere messa in discussione l'autonomia e l'indipendenza mai deve essere messa in discussione il lavoro di quei tanti magistrati che tra mille difficoltà mandano avanti la macchina della giustizia ma deve invece essere affrontato un tema riformatore di determinate situazioni che non hanno funzionato nel mondo della magistratura e che dal di là degli interventi sulla giustizia penale hanno riguardato il rapporto tra politica e magistratura che la riforma cartabia io penso non è stata in grado adeguatamente di risolvere e Palamaro un sì o un no lei è favorevole alla separazione delle carriere PM giudice? Inizialmente ero contrario ero contrario quando ho investito i ruoli apicali all'interno della magistratura poi sia esperienze personali sia la constatazione che comunque nei fatti già all'interno della magistratura c'è una chiara separazione tra il ruolo del pubblico ministero e il ruolo del giudice parlo soprattutto ai fini della carriera perché chi fa carriera chi vuole fare carriera dobbiamo stringere quindi è favorevole o no? Comunque sì la risposta è sì ottimo l'ultima domanda Palamaro politico ha diverse esperienze stiamo lavorando o ha archiviato la pratica della politica? Stiamo lavorando per essere sintetici perché dobbiamo stringere stiamo lavorando working progress e però qualche cosa ce la deve dire stiamo lavorando su quale direzione? Stiamo lavorando su una direzione e adesso saranno dei prossimi appuntamenti importanti come più volte ho detto il mio racconto è un racconto che maggiormente ha interessato la compaggione del centro-destra che è al di là diciamo dell'esperienza dei partiti ma soprattutto parlo degli elettori anche di quella parte di italiani che non vota si è mostrata molto sensibile ad avere appare una battaglia importante sul tema della giustizia e su quello è un mio intendimento portarla avanti con un sì o con un no sulle europee c'è Palamara in campo o meno? Diciamo nì però più sì più sì la ringrazio dottore Palamara come sempre per aver accolto il nostro invito alla prossima come ringrazio i nostri telespettatori di Talk Sicilia e un buon proseguimento di giornata grazie a voi buon lavoro grazie a tutti